Altro importante risultato lo scorso fine settimana per i ragazzi della Master Rapid SKF CBL di scena al Centro Sportivo Palla 200 di Torino in occasione dei campionati italiani assoluti di karate. Gli atleti guidati dai maestri Francesco Maffolini, Francesco Landi e Dario Zanotti si sono nuovamente distinti sfoggiando notevoli qualità tecniche e un'ottima preparazione. La tre giorni iniziata venerdì 18 novembre ha preso il via con le gare dedicate alla specialità del Catà dove la società Camuna è riuscita nell'impresa di ribadire la propria leadership nazionale tra i club civili ottenendo gli stessi punti del gruppo sportivo esercito nel femminile e piazzandosi al terzo posto nel maschile dietro all'esercito e alle fiamme oro. Da segnalare le prestazioni portate sul tatami dall'Ara Bresciani, Miriam Ederar, Melissa Verdone e Ludovica Rifugio che non riescono per pochi decimi ad accedere alle fasi finali. Lo stesso è capitato a Federico Arnone, Elisa Vielmi e Franco Sacristani usciti al terzo turno. Leonardo Birra, Karim Ederar e Leonardo Bombardi si sono firmati al secondo. Grande rammarico invece per Cristian Serra, giunto settimo solo per pochi centesimi. Appare sempre più vicina invece la consagrazione di Elena Roversi tra le migliori atlete d'Italia nella categoria maggiore sensazioni certificate dal bronzo conquistato in gara al culmine di un crescendo di valutazione. Nel maschile brilla invece Giulio Sembinelli che ha ottenuto la sua prima finale per una medaglia negli assoluti. Il campione italiano universitario in carica ha ceduto solamente nel match decisivo con Impaglio il Bronzo. Nel Kumite infine ottime prove per Aurora Pendoli, Francesco Scoppetta, Dejan Gruer, Enrico Bruno e Morena Morosini che si arrendono nei turni preliminari mentre Matteo Landi, partito di slancio, si è poco classificato al settimo posto. Da segnalare che la compagine della Master Rapid SKF CBL si è presentata al Via con 21 atleti, il numero più alto per un club civile a livello italiano.